è il strategico a Taranto, è il morito dell'alto, non sembra che è il pagato, ma che è l'unità di loro sono perso 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 per dire che chiudi sono perso è una vergogna Taranto vuole la chiusura ma è tutto il corpo è un punto è vero sono appena entrate in redazione queste immagini ovviamente fasi molto concitate non sono immagini in diretta però sono molto significative tanti sono gli operai che volevano parlare con il Presidente del Consiglio si volevano avvicinare anche il Presidente del Consiglio però ovviamente per la sicurezza vedete comunque i bodyguard devono esserci però il Presidente che ha chiesto più volte ascolto tutti, ascolto tutti quindi l'esigenza delle persone è parlare con Conte mi sono parlato stanno parlando con l'Opegnaio ma no si vieni a me si vieni a me ma si vieni a me faccio un parlare non ce la può non ce la posso noi vogliamo la chiusura il primo a morire siamo noi il primo a morire siamo noi le vendicazioni degli operai avete visto che accadezza le punte qualcuno direte adesso vieni qui di parlare con gli operai non ci conoscono neanche non conoscono l'impianto sono arrivato ho detto che stanno bene mi hanno detto qua io sono uno di quelli che sta dentro io parlerò con tutti quindi aspettate che parlerò con tutti ero andato lì mi hanno detto ci sono gli operai penso che sono colleghi pure no parlerò anche con voi anche quelli sono colleghi la voce dei segretari noi no i segretari che non conoscono gli impianti i presidenti parlerò anche con voi a fare il giro sull'impianto parlare con tutti però con calma non abbiamo paura il pacificatore non vengono qui senza marzo ma anche noi ancora non c'è oggi parlerai però paghi e parlano pure gli altri certo solo che non ci rappresenta nessuno chi viene a parlare parla senza conoscere il piano non possiamo parlare senza conoscere il piano facciamo così poi parlare perché non ho capito che dobbiamo parlare armi no bravo no 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 no